Centinaia di appassionati, moltissimi giovani, sono accorsi al maschio angioino per accogliere Steve McCurry, uno dei più grandi fotografi del nostro tempo, in esposizione al PAN con la mostra Senza Confini. Credo che una buona foto sia quella che ti racconta una storia, che ha una componente emozionale, che ti fa ridere o piangere, un'immagine importante e un'immagine che non riesci a dimenticare. Fotografie straordinarie scattate in luoghi spesso inaccessibili, che catturano momenti di verità inaspettate. Alla fine degli anni 70 McCurry ottenne fama internazionale con un reportage dall'Afghanistan. Nel 1984 il suo ritratto di ragazza afghana, pubblicato da National Geographics, divenne un'immagine simbolo nel mondo. Credo che la foto della ragazza afghana sia stata certo un'immagine importante e che le persone da tutto il mondo abbiano reagito a quell'immagine e questo, magari, può essere d'aiuto per altri rifugiati. Promossa dal Comune di Napoli, l'esposizione è organizzata da Civita Mostre in collaborazione con Sud-Est 57. Certamente è un grande testimone del nostro tempo. Ha squarciato veli, ha fatto arrivare la conoscenza con la sua arte in luoghi difficili, complicati. Ci ha fatto vedere il mondo nella sua diversità, nelle sue tragedie, nei suoi orrori. quindi un grande testimone di verità, un grande testimone di una natura stuprata, di diritti conculcati, ma un grande artista. Quindi siamo felici di averlo a Napoli, di poter vedere una grande e bellissima mostra che ovviamente interroga, inquieta, affascina, una grande tempesta di emozioni. La mostra potrà essere visitata fino al prossimo 12 febbraio. Grazie. 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 Grazie.